Ecco i 7 motivi per cui l'olio nel baking box è nettamente superiore rispetto alla classica lattina. Primo motivo, protezione da sbalzi termici. La temperatura resta sempre costante grazie al cartone che isola la sacca interna in alluminio. Secondo motivo, protezione dalla luce. L'olio contenuto rimane inalterato nel tempo grazie alla schermatura del cartone. Terzo motivo, protezione dagli odori. Quando togli l'olio per l'utilizzo giornaliero, quello che rimane all'interno della sacca non entra a contatto con eventuali odori dell'ambiente, preservando i profumi dell'olio. Quarto motivo, protezione dagli urti. Non essendo un contenitore rigido, durante il trasporto non teme eventuali urti, evitando perdite di olio e contaminazioni esterne. Quinto motivo, protezione dall'ossidazione. Mentre spili l'olio giornalmente, la sacca si destringe, non facendo entrare ossigeno. In questo modo l'olio mantiene intatte tutte le proprietà antiossidanti fino all'ultima goccia. Sesto motivo, la praticità. Una volta estratto il rubinetto, puoi poggiare il contenitore su una mensola e prelevare l'olio man mano che ti serve, evitando i fastidiosi travasi. Ed infine, settimo e ultimo motivo, è la semplicità nello smaltimento. Basta estrarre la sacca in alluminio e schiacciare il cartone, riducendo al minimo gli incompri. Arrivati a questo punto, se vuoi testare la praticità del bagging box, non ti resta che cliccare il tasto scopri di più sotto questo video e scoprire l'offerta attiva in questo momento. A presto, ciao!